Per Tau Lui è Tiki Dogger Allora perché la mica? Per lui Ma è un bel dedico per fare guide cose Allora Questa bella roccia dove te l'hai? In bocca Ma tu me lo stai dicendo che fai Eeeh... Fai una pianta, dai Sparola 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 Ma che ne vedi? Nooo Per me piace il pistaccio Se metti nella punta Che è la punta al meglio Per la punta Per la punta Per la punta E poi Quando la sborda tira pulata la lega Si si sa Sennò poi ti lascia la E poi mi ha messo la... Delle... Una lecchettia buona La cosa? E' la cosa? E' la cosa? E' la cosa? E' la trachea che ho visto E' la cosa? E' la cosa? Poi mettici... Cioè, polvere di pene Non so che figlia per quindi tu Però comunque... Io metterei il pistaccio sopra lo sticchio che è difficile Ah no, vai, vai! Poi una bella sporratina alla Nutella di sopra! Ci sta, ci sta! Perché è questa bella figlietta? Si può sapere? È la nostra amica che... L'amica la figlietta ci vuole! Fino a 9? Eh, perché è una commissione di... Poi è... Che è troppo sostanziale! Eh... Faccio una fotografia! Ciao!